Intanto un giudizio positivo sulla Casellati, sarebbe un ottimo Presidente del Consiglio, una profonda stima della Senatrice Casellati per quello che ha fatto nel corso della sua vita. Detto questo, mi auguro che entro qualche giorno l'Italia abbia un governo, l'Italia ha bisogno di governabilità, ha bisogno di dare risposte al Paese, c'è bisogno di dare risposte al Paese, ma c'è bisogno anche di avere stabilità nel nostro Paese per riprendere peso in Europa e nel mondo, cosa che oggi non abbiamo, soprattutto qua in Europa. Mi auguro che ce la faccia, sarà molto complicato perché abbiamo fatto una elezione politica con una legge elettorale proporzionale e sono prevalse, ci sono tre blocchi che hanno raccontato storie diverse, metterle insieme non sarà facile, ma il mio auspicio è che la Casellati ce la possa fare.